Si gioca ancora a Macerata, Lube, Banca Marche, Macerata, Yoga Forlì, 2-1 la situazione dei set col 25-19 del terzo parziale, 8-7 la situazione nel quarto. A te Pancrazi. Grazie, sì, solo un aggiornamento dai tre campi collegati di Serie A di pallacanestro, solo tempo e risultato. Bologna. Nove minuti al termine della partita, cinque punti di vantaggio per la Canadian Solar Bologna sull'Angelico Biela, 58-53 Caserta. 5-32 al termine della partita, 60 sul Tor Monte Granaro, 58 pezzi Caserta, Ferrara. Al Palas Eges, 6 minuti e 20 al termine, ancora vantaggio esterno, Armani Gins, 47, Carife Ferrara, 45, linea allo studio. La Lega 2, la quarta giornata di ritorno, il trentesimo a Rimini, Rimini in vantaggio netto sul Imolac, 73-53. Ventottesimo a Casale Monferrato, Fastweb, Humana Reier, Venezia, 45-34. Trentunesimo a Casale Pusterlengo, ancora un vantaggio interno, appunto su Pavia, il vantaggio è di 78-65. Trentesimo a Latina, vantaggio interno, Latina Fileniesi, 63-49. Ventinovesimo a Pistoia, qui in vantaggio è la Primaveroli, anche se di poco, 62-52. Trentunesimo a Reggio Emilia, Trenkwalder Bialetti Scafati, 50-49. Trentesimo a Vigemano, in vantaggio di due punti la Snyder, 67-65. E ora di nuovo sui campi della serie di basket, Varchiesi, Bologna. Siamo un po' alle solite con la Virtus Bologna, perché si profila un altro arrivo in volata per la formazione di Lino Lardo. 8 minuti, 26 secondi a chiudere la partita, l'Angelico Biella a soli tre lunghezze di distacco. 58-55 per la Canadian Solar, Bologna 5-0 di parziale in questo inizio di ultimo quarto per l'Angelico Biella con una tripla del bosniaco Plisnic e un canestro in entrata di Guillermo Diaz. Diaz che fa il suo esordio questa sera con la maglia dell'Angelico Biella. Torna a giocare dopo otto mesi, era fermo per la vicenda relativa al ritardo con cui lui e Ron Slay si presentarono contro l'antidoping al termine della partita di Teramo contro la banca Tercas dello scorso campionato. Diaz e Slay poi sono freschi di riabilitazione da parte del TAS Diaz che sostituisce l'infortunato Fred Jones. Ora il primo canestro dell'ultimo quarto per la Canadian Solar Bologna viene realizzato da Diego Fayardo che va in doppia cifra, 10 punti per il centro spagnolo, un po' d'ossigeno per la Virtus. Questo canestro di Fayardo 60-55 con l'Angelico Biella in palleggio proprio con Diaz. C'è il raddoppio sul portoricano, bravo Diaz a smarcare Garry. Ottimo l'assist sotto canestro per Plisnic che va ad appoggiare senza problemi. Si è dimenticata del bosniaco qui la difesa della Virtus Bologna. 60-57, Biella ha proposto spesso, soprattutto nella prima parte della partita, la zona 2-3. Vediamo la Virtus Bologna in attacco. Dujan Vukcevic si alza da tre punti, tripla pesante questa per l'ex giocatore di Montepaschi Siena e Armani Giz Milano, più 6 nuovamente per la Canadian Solar Bologna per Vukcevic. È il sesto punto della partita. Vukcevic che aveva realizzato anche l'ultimo canestro del terzo quarto che aveva portato Bologna sul piotto. 58-50, ora siamo 63-59 perché è andato a segno con un semigancio. Luca Garry, 6-54 a chiudere la partita, più 4 Virtus Bologna, linea Caserta. Grazie Barchiesi, tre minuti e venti alla fine di una partita che si è fatta accesa e soprattutto bellissima, molto combattuta. Adesso Cavaliero va, prova ad andare in Leapo fino in fondo, subisce il palo di Antonio Jones, andrà in lunetta. Cavaliero autore fino a questo momento di 15 punti, gran bella partita la sua. Ricordiamo che Cavaliero è stato proprio scelto da coach Fabrizio Frates e nel ruolo di guardia al posto di Robert Haidt, proprio Haidt che giocava fino a due settimane fa a Montegranaro. Si è trasferito qui a Caserta, buono il suo esordio la settimana scorsa a Biela con 15 punti. Stasera sta perdendo il confronto a distanza proprio con Cavaliero Haidt. Soltanto 5 punti per lui. Mancano, lo dicevamo, 3 minuti e 15. C'è Ivano, anzi scusate, non Cavaliero in lunetta. Lui ad aver subito il fallo da Jones con la Sigma che prova ad incrementare il proprio vantaggio che in questo momento è di soltanto un punto sul 62 a 61. Il bulgaro che fino a questo momento ha messo 13 punti conditi da 11 rimbalzi. Sbaglia entrambi i tiri liberi ma il rimbalzo offensivo è proprio di Brunner che cede a Marchignos. Il tiro da tre punti di Marchignos va fuori ma c'è un altro fallo della difesa casertana e dunque altri tiri liberi ancora per Ivanoff. 3 minuti a 0-4 alla fine della partita. 62 Sigma Montegranaro, 61 Pepsi Caserta, linea Ferrara. A Ferrara siamo con vantaggio esterno ancora. 52 per l'Armani Jeans, 48 per la Carife in attacco. C'è il tiro da tre di Sangare. Il rimbalzo sbaglia ancora da sotto Namaka. È un momento difficile per Ferrara perché Milano sta facendo valere la ricchezza dei suoi cambi. Sono entrati in campo Aker e Hall che erano in panca all'inizio della partita. Ora c'è anche Sani Becirovic dalla linea di Sevilla. È in vantaggio sulla Vanoli Cremona per 77 a 53. Ed ora la pallavolo con Simonetta Martellini. 9 copra Atlantide Piacenza, 10 Andreoli Latina. Siamo nel quarto set con Piacenza che conduce per... Ciali Copiella, 65 a 59, Caserta. Due minuti a qui, mancano alla fine della gara la palla Maggio ed è sempre avanti la squadra che viaggia, ovvero l'Astutor Montegranaro. 65 per Montegranaro contro i 63 punti della Pepsi Caserta. Ferrara. È a lunga Milano a 3,29 dal termine durante... 57 Armani Jeans, 48 Carife Ferrara lì nello studio. La Lega 2, 34esimo Rimini Imola, 80 a 58. Trentesimo a Casale Monferrato, Casale in vantaggio sul Venezia, 50 a 38. 34esimo Casal Pusterlengo, Pavia, 86 a 70. Stesso tempo 34esimo a Latina, in vantaggio sempre la squadra di casa sulla Fileniesi, 67 a 55. 32esimo Carmatic Pistoia, prima Veroli, 57 a 69. Quindi Veroli che cerca di agganciare la seconda posizione, siamo al 32esimo. 34esimo Reggio Emilia, che è in vantaggio sul Bialetti Scafati per 59 a 51. 34esimo anche a Vigevano, in vantaggio Sneider Udine di un solo punto, 70 a 69. Ed ora di nuovo la linea Bacchiesi, Bologna. Sì, è Pietro Aradori, l'anima dell'Angelico Biella, ha riportato i suoi a meno 4, 65. A 61, 4 e 11, ma la formazione di Luca Becchi ora perde per 5 falli. Luca Garri, partita finita per Garri, per lui ci sono esattamente 4 punti. 4 punti per Luca Garri, attacca la Canadian Solar Bologna. Lo scarico di David Moss per Victor Sanichize. C'è il fallo di Plisnich, giocatore arrivato a gennaio all'Angelico Biella. Biella è già nel bonus, dunque tiri liberi per il Georgiano. Lala Georgiana in lunetta per due tiri liberi preziosissimi a questo punto, perché la Virtus Bologna è avanti di 4 punti, 65 a 61. È un po' il film visto già in altre occasioni. Quello della Virtus Bologna avanti nel punteggio, si fa quasi raggiungere dagli avversari. Ricordiamo domenica, da più 18 contro Monte Granara è andata a perdere la partita proprio allo scadere con una tripla, 5 secondi dalla silena di Maestranzi. 2 su 2 per Victor Sanichize e rilancia dunque la Virtus Bologna a 6 punti, 67 a 61 sull'Angelico Biella. Joy Smith in palleggio, lo aspetta Petteri Copponen. Vediamo in panchina Andre Collins, dunque playmaker della Virtus in questo momento del finlandese. Smith scarica per Aradori, da 3 punti sul ferro, lotta rimbalzo, premia Faiardo che va a subire fallo da Plisnic. Fallo di Plisnic, il quarto fallo per il Bosniaco. Altri tiri liberi pesantissimi per la Canadian Solar Bologna. 3,41 al termine, più 6 per la formazione di Lino Lardo che conduce 67 a 61 sull'Angelico Biella. Linea Ettore De Lorenzo a Caserta. Qui mancano un minuto e 18 secondi alla fine della partita. Adesso sono 7 i punti di vantaggio per la squadra allenata da Fabrizio Frates. Dunque Caserta sta rischiando seriamente di perdere la prima partita tra le mura amiche qui al Palamaggio. Ricordiamo che la squadra di Sacripanti è ancora imbattuta. 7 i punti di vantaggio per la Sutton Montegranaro. Anche se adesso c'è Jumain Jones dall'altra parte a provare a giocare il tiro da tre punti da lontanissimo contro Greg Brunner che gli metteva una mano in faccia. Il tiro infatti non entra ancora Jones che riceve uno scarico. Sbaglia anche questa tripla. Il rimbalzo è di Robert Tite. Sbaglia anche lui. Sembra stregato il canestro della Sutton Montegranaro. 54 secondi alla fine della partita. Più 7 per la squadra ospite. Ma è ancora Di Bella che rimetterà dalla rimessa in fase di attacco. Il pallone per Durnekamp. Durnekamp che gira per Eppiere. Tenta anche lui. La tripla sbaglia.